Dalla parte di qua non puoi andare perché c'è il marciapiede, la via è stretta, il pezzettino. Se vai un pochino più sulla strada ti prendono sotto, per cui è molto pericoloso. C'è qualcuno che ha rischiato di farsi male? Io per prima, tanta altra gente, perché come dico, lì quando sei uno che non c'è nessuno, vai oltre, cammini tranquillo. Invece quando passano le macchine è così, è molto pericoloso. Dal momento che hanno fatto quel pezzettino all'asfalto lì, potevano arrivare fino più in qua, ma non pretendiamo l'asfalto, ma almeno il ripristino di quel pezzettino. I residenti di San Lazzaro lanciano l'allarme sullo stato in cui versa una parte della carreggiata di Via del Ponte, dopo i lavori raccontano eseguiti dalla Telecom. Rischiamo di farci male ogni volta che transitiamo in quel punto in sella alla bicicletta, dicono, e l'amministrazione comunale deve intervenire prima che qualcuno possa farsi male sul serio. Una situazione pericolosa, segnalata già da diverso tempo sia all'ufficio del sindaco che a quello competente dell'urbanistica, ma ad oggi nulla è stato risolto. È un punto pericolosissimo, perché le macchine arrivano, quando vedono il verde, sfrecciano, vanno, e se tu sei lì con la bicicletta, siccome c'è un pezzettino così in alcuni punti, non sono tutti, però dall'asilo fino al semaforo, ed è molto pericoloso, perché tu se prendi con la ruota e ti vai lì dentro, non sai cosa fare. Siccome lì hanno fatto un lavoro fatto male, perché non hanno richiuso bene, ha ceduto la strada, vogliamo, che lo ripristinano. Se non può, a spese del comune, lo facciano fare, facciano rivanza sulla ditta che ha fatto i lavori. Noi, quando facciamo qualcosa, noi dobbiamo ripagare anche se sbagliano gli altri. Io penso che sia giusto, sia un dovere dei cittadini che pagano le tasse e che la strada sia sicurezza d'uomo, perché lì ci vanno che i bambini, ci vanno tutti.